Io ho promesso che avrei parlato di Renato Sanchez, ieri ho visto la partita, come vi ho già anticipato nel video di questa mattina, tra il Chelsea e Lille, ho guardato con attenzione la prestazione innanzitutto di Botman, ecco, Botman non ha giocato la sua migliore partita, da quello io stamattina ho parlato e ho detto, mi ha convinto non tantissimo, un giocatore un po' legnoso, e mi hanno detto, non ha giocato la sua migliore partita, mi hanno detto chi lo vede giocare spesso, non ha giocato la sua migliore partita, ma indubbiamente, e questo lo dico io, è un giocatore giovanissimo, con tantissimi margini di crescita, quindi non mi preoccupo per questa partita, aveva contro ovviamente una corazzata come il Chelsea, ma noi vogliamo giocatori che ci portino avanti proprio quando il Milan gioca con queste squadre. È un giocatore fisicamente imponente, un fisico proprio al giocatore da Premier League, fisici alla Van Dijk, fisici importanti, però ieri ha sofferto un po' i fraseggi del Chelsea, non è stato prontissimo sul primo gol di Havertz, ma indubbiamente mi hanno detto, è un giocatore dai margini enormi di crescita. E poi signori, ricordatevi, ricordate un atu di questo giocatore, cioè una valenza. Oggi, in giro, in campo internazionale, i giocatori validi, centrale difensivi, col piede sinistro, sono una rarità. Dicevano i latini rara avis, un uccello raro, una rarità. Ecco perché il Milan va su questo giocatore, giovane, perché potrebbe stare nel Milan 7, 8, 10 anni. E se il Milan dovesse perdere l'altro difensore centrale, raro, col piede sinistro e si chiama Alessio Romagnoli, ebbene il Milan va a trovare un giocatore che in questo momento gli serve ed è difficile da reperire in campo internazionale. Se poi avessimo la fortuna di avere Botman Romagnoli, Tomori, Kier, beh, questo sarebbe il massimo dei massimi. Vediamo, vediamo l'evoluzione della situazione Romagnoli, ma il Milan tanto si cautela con questo difensore centrale di piede sinistro e quindi questo rimane l'obiettivo indipendentemente dalla partita di ieri, che ripeto, non è stata la sua migliore partita, ma va anche esaminata, l'avverva anche sottolineato la caratura dell'avversario. Quindi una partita complicata per tutto il Lille, che ha perso appunto 2-0 come da pronostici. Invece, no, invece mi ha entusiasmato, mi ha entusiasmato Renato Sanchez. E allora voi direte, ma perché allora il tuo titolo è Non c'è solo Renato Sanchez? Adesso vado a spiegare. Prima vi dico perché mi è piaciuto molto Renato Sanchez. Giocatore innanzitutto il piede, che qualità, che qualità, oltre la mobilità. Giocatore che riesce a conciliare mobilità e piede. Ha effettuato un lancio di esterno destro a liberare un giocatore del Lille straordinario, poi sempre molto presente nell'azione. Ecco, qualcuno parla del suo ruolo, del suo ruolo. No, forse non potrebbe giocare in una difesa, scusate, in un centrocampo a due. Io non so, perché poi un giocatore del genere secondo me si adatta, anche se sembra un giocatore che si esalta di più nel tre, magari partendo da destra. Però io lo vedrei in maniera splendida come numero 10. Come numero 10 con quel piede, con quella fisicità, con quella mobilità. Io non so se abbia mai giocato in quella posizione più avanzata, ma se si adattasse è uno spettacolo. Renato Sanchez è uno spettacolo. Allora torniamo al titolo. Perché non c'è solo Renato Sanchez? Perché è quello che forse in questo momento viene monitorato, prima eventualmente di affondare il colpo, che mi dicono ancora abbastanza improbabile. Quindi tutti vanno decisamente su Renato Sanchez anche un po' per la sindrome dei grege. Uno dice Renato Sanchez, tutti dietro Renato Sanchez. Anche se qualcuno potrebbe dire che c'erano state delle voci, anche concrete, anche fondate, di un tentativo a fine gennaio. Vero! Ma dato che fine gennaio è un mese fa, io mi informo oggi e dicono difficile, improbabile. Quindi lasciamo stare cosa sia successo un mese fa. Che cos'è che forse preoccupa? Forse sul piano dinamico e sul piano della qualità, assolutamente è un giocatore di primissima fascia. Anche se non capiamo un giocatore del genere va dal Bayern Monaco, che poi lo molla, finisce al Fula, che non è una squadra di top club, anche se è una squadra di tradizione inglese, e poi va al Lille. Quindi quando un giocatore passa dal Bayern e poi il Bayern lo lascia andare, qualcosa mi fa pensare. Forse va valutato non solo la qualità del gioco, la caratura del giocatore, ma magari viene valutato, non lo so, non lo conosco, non leggo nulla in questo senso, ma attenzione anche alle qualità caratteriale. Viene in una squadra giovane, viene in una città tentacolare, come si dice, e quindi servono giocatori che siano già a livello mentale maturi, giocatori che sappiano subire la pressione del tifo, la pressione di San Siro, la pressione anche e le distrazioni della città. Quindi quando il Milan compra un giocatore, acquista un giocatore, studia le caratteristiche di un giocatore, va a esaminare a 360 gradi tutte le sfaccettature. Ecco perché forse, indipendentemente dalle qualità tecniche, stanno esaminando anche questo aspetto. E ripeto, il fatto che sia passato dal, abbia lasciato presto il Bayern, ci fa pensare che un giocatore così bravo, perché è bravo, ci sia qualcosa che ci sfugge. Detto questo, attenzione perché non c'è solo Renato Sanchez. Il Milan sta guardandosi intorno. Ci sono tanti giocatori che possono, secondo il quarto piano, eventualmente dovesse andare come sembra che sì. Ci sono tanti giocatori che lo possono sostituire in maniera importante, anche cercando ovviamente di migliorare un giocatore già di eccellente livello qualitativo. Vedremo che nomi ci sono, ci sono dei nomi interessanti, probabilmente in giro per l'Europa. Il Milan sta, visto che mi parlano di improbabilità di Renato Sanchez, sta sondando, vagliando. Signori, a casa Milan, indipendentemente dal discorso dei 100 milioni che ci siano o no, stanno lavorando e lavorando sodo su tutti, su tutto il fronte europeo, internazionale, sudamericano, oltreoceno, non lo so. Stanno lavorando, mi sembra che Milan lavori soprattutto sul piano europeo, stanno sondando e guardando e vagliando le figure. Non si può sbagliare. Il Milan, come anche le altre squadre, non può sbagliare il difensore centrale. Quindi il Botman è certamente l'obiettivo, ma lo monitorano partita dopo partita. Renato Sanchez, abbiamo detto, e mi parlano di improbabilità, e poi ci sarà l'attaccante. La Gazzetta è uscita, ma senza nulla togliere alla Gazzetta, l'abbiamo detto per primi ancora un mese fa, di Ekitike, giocatore interessante. Leggevo oggi Alessandra Bocci nel suo articolo, oggi fermo per un problema muscolare che possa ovviamente capitare. Questo può essere un obiettivo, ma ci sono altri giocatori. Non sono tanti gli attaccanti che il Milan eventualmente può vagliare con chance di acquistarlo. Però il Milan sta lavorando. E quando il Milan lavora, poi arrivano i Tomori, quando il Milan lavora, poi arrivano i Mignan, quando il Milan lavora, poi arrivano i Teo Hernandez, che sono tre nomi che non hanno mai, prima venissero al Milan, eccitato la fantasia perché pochi li conoscevano, non conoscevano il reale valore di questi giocatori. Tonali, chiaro, Totti aveva detto che era il migliore giocatore centrocampista di questa generazione e il signor Francesco Totti sembrava avesse sbagliato, ma invece ha la vista lunga da fuoriclasse assoluto che quindi sa riconoscere i fuoriclasse assoluti. Francesco Totti ha subito indicato Tonali come grande campione, ma quindi conoscevamo già. Ma altri giocatori poco conosciuti si sono rivelati dei grandi giocatori. Quindi siamo tranquilli, la proprietà, la società, i dirigenti, il quarto piano, sempre in contatto con Stefano Pioli, stanno lavorando per rendere più forte il Milan. Cento milioni, non cento milioni, ma sostenibilità e soprattutto scelta, senza grandi svolazzi mediatici. Chiaro che vanno su Botman perché probabilmente Bremer è più complicato da acquistare, magari ci sono più squadre che lo stanno cercando e quindi Milan va su giocatori che subito a giugno possano essere acquistati, visite mediche e a luglio quando si partirà. Non so, si partirà anche forse un po' presto, visto un po' prima, perché non dimentichiamo che il campionato inizierà nel weekend del 13 agosto. Ma veniamo al campo, parliamo ancora di Zlatan Ibrahimovic. Cosa dire di Zlatan Ibrahimovic? Zlatan Ibrahimovic è a forte rischio anche per la parita col Napoli. Perché? Perché ancora oggi è dentro, non è uscito dalla palestra, quindi salta sicuramente dopo domani Udine, arbitro signor Marchetti, la partita contro l'Udinese, arbitro signor Marchetti che non conosco. Poi il derby, perché anche se rientrasse venerdì non credo che gli bastino due, tre corse fuori e un allenamento per giocare, per essere a disposizione del derby. Sembra difficile e diventa, si sta un po' complicando anche la situazione per quello che riguarda la partita contro il Napoli. Quindi c'è l'attesa. Prossimo appuntamento l'Empoli. Empoli in casa potrebbe essere l'appuntamento giusto prima della ostica trasferta di Cagliari. Abbiamo visto la qualità del gioco del Cagliari. Quindi questa è la situazione. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Non dimenticate di attivare la campanella. E attenzione al Milan. Milan che sta lavorando in maniera importante, in maniera decisa, in maniera seria, in maniera professionale, in maniera innovativa, in maniera anche sorprendente per sorprendere con grandi giocatori che possono arrivare nella prossima stagione.